E' stata siglata presso l'Università degli Studi di Teramo dal Rettore Dino Mastrocola e il Questore di Teramo Enrico Desimone una convenzione tra la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università e la Polizia di Stato dell'intero territorio italiano. E' la firma di una convenzione che poi ha anche l'approdo di un percorso e l'inizio di un nuovo percorso. E' una convenzione che ha dei connotati fondamentalmente legati alla formazione, quindi la possibilità da parte di tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato di accedere ai nostri corsi di laurea con una agevolazione per quanto riguarda la contribuzione, ma anche e soprattutto il riconoscimento di crediti per i percorsi formativi precedenti e anche la possibilità di concordare insieme dei percorsi formativi adatti ovviamente alle esigenze dei singoli sia nel tempo che nello spazio, quindi la possibilità di attività seminariali intensivi sul territorio nazionale così come l'utilizzo della piattaforma e-learning proprio per fornire dei materiali direttamente. Una grande opportunità che non potevamo perdere è quella di innalzare il livello formativo del personale della Polizia di Stato che essendo impegnato costantemente in attività operative difficilmente riuscirebbe a ritagliare tempo per elevare il livello culturale. Quindi grandi opportunità che possono consentire al personale che riesce a conseguire questo titolo di studio anche l'accesso a livelli superiori della Polizia di Stato per i quali sono richiesti i titoli superiori. Ci sono comunque degli esami da sostenere nonostante vi siano dei percorsi agevolati e soprattutto anche una tassazione agevolata che poi va estesa anche ai figli dei dipendenti quindi questa è veramente una sensibilità che il Rettore con l'Università ha dimostrato verso la categoria degli appartenenti alla Polizia di Stato.